Il Femminicidio di Sicilia 24 Il Femminicidio di Sicilia 24 Il Femminicidio di Sicilia 24 Alle ultime ore Vediamo questo ricordo di Adelaide Barbagallo Natale Bruno ci ha lasciati improvvisamente stanotte Sino a ieri sera era la conduzione di Sicilia 24 Poco prima la riunione in redazione Con il confronto sugli aggiornamenti Dei principali fatti di cronaca da raccontare E poi, prima di tornare a casa La rivederci a domani Stamattina la notizia della morte di Natale 59 anni compiuti a luglio E piombata in redazione come arrivavano talvolta le sue telefonate Per dirci di un'operazione di polizia Di un arresto Di un fatto di cronaca nera appena avvenuto Da tanti anni a Telecolor Natale lo scorso marzo aveva ricevuto Dall'ordine dei giornalisti di Sicilia La medaglia per i 35 anni di iscrizione all'albo E lo annunciava sorridendo E con orgoglio in redazione Nella sua lunga carriera Seguito da vicino e riportato Sempre con professionalità e dovizia di particolari I più grandi fatti avvenuti in Sicilia Più volte inviato Sino a pochi giorni fa Per il femminicidio di Ramacca La ragazza da Moldava Veraschiopo abitava assieme ai due romeni In questo secondo capannone Che vedete alle mie spalle Era corrispondente di Repubblica Catania Scriveva anche per l'agenzia Agi In passato aveva lavorato con il giornale di Sicilia Nell'aprile scorso Si era ritrovato sulle tv nazionali Per un video Che lo mostrava in diretta Alla conduzione del telegiornale di Telecolor Durante una forte scossa di terremoto Impassibile E andato avanti Cronista di razza La sua morte Incredibilmente improvvisa È una gravissima perdita Per noi colleghi In redazione a Telecolor Abbiamo condiviso con Natale Anni di lavoro I confronti con lui Sui fatti di cronaca E sulla vita di redazione Erano sempre schietti Diretti Talvolta animati Perché Natale si accalorava Quando era convinto Della bontà delle sue idee E con tutte le sue forze Le portava avanti L'editore La redazione I tecnici L'amministrazione di Antenna Sicilia E Telecolor E Angela Ciancio Che ricorda con affetto E gratitudine I tanti anni di lavoro Svolti insieme Tutti addolorati Per l'improvvisa perdita Si stringono Alla mamma Teresa Alla compagna Santa E ai suoi familiari I funerali Si svolgeranno domani Alle 17 Nella chiesa madre Di Mister Bianco Profondo cordoglio Per la scomparsa Di Natale Bruno Arriva anche Dal mondo Delle istituzioni Della politica Anche dalle forze Di polizia Un professionista serio E leale Che nel racconto Degli avvenimenti Ha sempre anteposto I fatti E le notizie Ad ogni altra valutazione Questo è il commento Del sindaco di Catania Enrico Trantino Eva Spampinato Doveva sedere qui Questa mattina Natale Bruno Anche oggi Avrebbe dovuto condurre Il TG di Telecolor Quello dell'ora di pranzo Sulla sua scrivania Invece del cellulare E delle cuffie Un mazzo di fiori E un biglietto Firmato dal direttore Del quotidiano Alla Sicilia Antonello Piraneo A Natale All'amico Al collega Nel ricordo Di tante cose Vissute insieme Antonello Con tutta la famiglia Della Sicilia Il lutto Per l'improvvisa Scomparsa Di Natale Bruno Ha colpito Non solo Il mondo Del giornalismo Siciliano E la grande cerchia Di amici E colleghi Che lo stimavano E lo frequentavano Ma anche un altro Importante mondo Professionale Che si intreccia Strettamente A quello della cronaca Il mondo Delle istituzioni Delle forze Dell'ordine Della politica Agenzie di stampa Social Quotidani online In poche ore Sono stati invasi Da post e commenti Sulla scomparsa Del giornalista Di Telecolor Apprendo con lo sgomento La notizia improvvisa Della prematura scomparsa Di Natale Bruno Punto di riferimento Del giornalismo siciliano Scrive in una nota Il prefetto di Catania Maria Carmela Librizi Bruno ha sempre svolto La sua attività Con professionale Straordinaria Esemplare Etica Preparazione Competenza E signorilità Di comportamento La locale comunità Civile Culturale Perde uno Dei suoi migliori Rappresentanti Conclude il prefetto Cordoglio arriva Anche dall'amministrazione Comunale catanese Conoscevo Natale Bruno Da più decenni Ha detto il sindaco Di Catania Fin da quando In tribunale Io muovevo i primi passi Da avvocato E lui Da giornalista Di cronaca giudiziaria Una carriera Proseguita poi In testate regionali E nazionali Ho sempre avuto La percezione Di un professionista Serio e leale Che nel racconto Degli avvenimenti Ha sempre anteposto I fatti E le notizie A ogni altra valutazione Alla mamma Teresa E alla compagna Santa Giunga l'abbraccio Di tutta l'amministrazione Comunale di Catania Un altro primo cittadino Fa sentire la sua voce E Marco Corsaro Il sindaco di Mister Bianco Comune nel quale Era residente Cittadino attivo Natale Bruno Scompare prematuramente Un professionista Attento Rigoroso Capace di spaziare Ma anche un nostro Concittadino Della cui opera Andare fieri Anche la Willet Nea in una nota Si unisce al dolore Per la perdita Di Natale Bruno E ora le altre notizie Del nostro telegiornale Centro storico Di Palermo Sempre più pericoloso Lo stupro di gruppo Si è proprio consumato In due punti Del comprensorio centrale Del capoluogo Vuciria E Foro Italico Residenti e consiglieri Di coscrizione Chiedono maggiori controlli Marco Gullà Lo stupro di gruppo Avvenuto lo scorso 7 luglio Ha ancora una volta Acceso i riflettori Sulla poca sicurezza Del centro storico Di Palermo E in particolare Nelle ore notturne Quando va in scena La movida La movida selvaggia Di alcune zone Del capoluogo Dove i giovanissimi Si sono resi protagonisti Di gravi episodi Di violenza Come pestaggi Furti E ultimo Lo stupro Di una 19enne Chiedono maggiore sicurezza Più attenzione Da parte delle forze Dell'ordine I residenti E tutti i consiglieri Di circoscrizione Che questa mattina Si sono incontrati Proprio nel cantiere Abbandonato Del Foro Italico Dove si è consumata La violenza Le azioni immediate Noi le avevamo già chiesto Il 12 giugno Col corteo Che chiedeva Per Palermo Più sicurezza E legalità Le abbiamo manifestato In prefettura Al capogabinetto E all'addetto Alla sicurezza Continuiamo ad attendere Un invito Affinché ogni consigliere Che rappresenta Centinaia E centinaia Di residenti Che regolarmente Raccontano di situazioni Anche di pericolo E di gravità Per poi essere Manifestate In prefettura Vuciria E Foro Italico Ovvero le due tappe Dello stupro Fanno parte Del comprensorio Del centro storico Qui In questo punto Della città Da anni Si chiedono interventi Per arginare La scia di violenza E il tema Non è soltanto Legato al controllo Mancato O alla presenza Sono cose per me Ovvie Questo non può esistere In una città Per decenni Non può mancare Il controllo Della polizia Sul territorio In questa maniera Comune Polizia municipale Altri ambiti Io chiedo Quali sono Le misure Che la politica Decide di mettere In campo Sul piano sociale Dove sono Gli educatori Di strada Il percorso È lungo E non si può Portare avanti Soltanto Con la repressione E poi furti Rapine Vetrine Dei negozi Spaccate Spaccio H24 Un centro storico Che se di giorno E meta di turisti Al tramonto Diventa invece Far West Andiamo alle agenzie Garante della privacy Mette in guardia Sulle conseguenze Anche di natura penale Della diffusione E condivisione Dei dati personali Della vittima Dello stupro Di Palermo E dell'eventuale Video realizzato A seguito Di numerose notizie Di stampa Su una caccia Alle immagini Scatenatasi Nelle chat L'autorità Con due provenimenti Di urgenza Ha rivolto Un avvertimento A Telegram E alla generalità Degli utenti Della piattaforma Affinché venga garantita La necessaria Riservatezza Della vittima Evitando Alla stessa Un ulteriore pregiudizio Connesso Alla possibile Diffusione Di dati Idonei A identificarla E quali sono Le dinamiche Socioculturali Che spingono I giovanissimi A compiere Violenze E stupri Di branco Noi lo abbiamo Chiesto Alla psicologa Maria Rita Parsi L'intervista È di Luca Ciriberti Lo stupro di Palermo Porta inevitabilmente Interrogarsi Sulle dinamiche Socioculturali Che spingono Questi giovanissimi A compiere Dei gesti Di tale portata Spesso ragazzi Che da soli Sembrano quasi indifesi In gruppo Diventano branco Pensando di essere Invincibili Lo abbiamo chiesto Alla psicologa E psicoterapeuta Italiana Maria Rita Parsi Attuale componente Dell'osservatore Per l'infanzia Per l'infanzia Per ricordo Intendendo Qualcosa di bello Come qualcosa di Orribile Come questo Senza generalizzare Ma alcuni giovani Di oggi Vedono il sesso Come una challenge Che cosa sta accadendo? Se io posso documentarlo Filmandolo Se io lo metto sui social Quasi per vantarmene E se io considero Questo Una sfida Una provocazione Vuol dire che Sto anche ammonendo Il mondo Della famiglia Della scuola Del sociale Delle comunicazioni Di massa Che questa è una Terribile realtà Che può emergere Proprio dalla mancanza Di educazione E infine Quanto influisce La famiglia Nei ragazzi Che poi diventano Stupratori? L'invito L'ammonimento È Noi dobbiamo Educare Differentemente Questi giovani Dobbiamo Creare loro Dei modelli Delle linee guida Che permettono loro Di non arrivare Per dimostrare Un'impotenza Che diventa Una potenza Di sottomettere Vittime Qualcosa Che addirittura Si può fare E si può diffondere E si può utilizzare Come un vanto Di fronte agli altri Si sono presentati Siamo ancora Le agenzie In commissariato E hanno presentato Una denuncia Contro ignoti Per i messaggi Di minacce E gli insulti Ricevuti Da quando Si è diffusa La notizia Che i loro figli Fratelli e parenti Sono stati arrestati Con l'accusa Di violenza sessuale Di gruppo Le famiglie Dei sette giovani Arrestati Hanno chiesto Alla polizia Di identificare Gli autori Dei commenti Ma anche Soprattutto Chi ha realizzato I profili fake Dei propri parenti E che ha postato Le foto degli indagati Dandole impasto A milioni di persone Le indagini Passano adesso Alla polizia postale Che dovrà passare Al setaccio Tutti i social Dove sono presenti Migliaia di post E di commenti Sulla vicenda Andiamo adesso A Gela Perché si torna A sparare Come avveniva Negli anni Ottanta Se i colpi Sono stati esplosi Da licenza ravvicinata Contro la fiancata Di un'auto In coda Nel traffico In pieno centro Gli spari Che sono partiti Da uno scudere In corsa Hanno ferito Due persone Fratello e sorella E sfondato Il finestrino Dell'auto Che viaggiava Davanti a loro Illesi Per fortuna Gli occupanti Gela dunque Ripiomba Nella paura Come detto Degli anni novanta Sentiamo Gero Italia Hanno sparato Per uccidere Solo per pura fortuna Non sono riusciti A compiere La loro missione criminale A Gela Si torna a sparare Come negli anni novanta In mezzo alle strade Nell'ora di punta Nelle zone più trafficate Della città Nella serata di martedì L'ennesimo episodio Nel cuore Della frequentatissima Via Venezia Due persone Un uomo e una donna Salvatore e Ornella Azzarelli Sono rimaste ferite In una sparatoria Erano circa le 18 Quando due uomini Con i volti Travisati dal casco A bordo di uno scooter Hanno affiancato L'auto di Azzarelli Approfittando del traffico Intenso Che in quel momento C'era in Via Venezia Hanno svuotato L'intero caricatore Sulla fiancata dell'auto Almeno uno dei sei proiettili Esplosi in corsa Ha colpito Azzarelli A una gamba Mentre la sorella È rimasta ferita Di striscio alla mandibola Uno dei colpi esplosi Probabilmente Da una semiautomatica Ha anche colpito Un Opel Corsa Che in quel momento Transitava davanti L'auto Obiettivo dei malviventi Illesi per fortuna Gli occupanti Una coppia di fidanzati L'interazione di fuoco Dovrebbe essere stata Ripresa interamente Dalle tante videocamere Che sono nella zona Le immagini In questo momento Sono al vaglio Degli inquirenti Azzarelli A diversi precedenti penali Per associazione mafiosa E di recente È stato sottoposto A procedimenti Per violazione delle misure Nell'ambito di un'indagine Su un incendio Che danneggiò Due auto e una moto I due feriti Non avrebbero fornito Notizie sull'agguato Utili agli inquirenti Per arrivare ai due tentatori L'ipotesi investigativa Al momento È quella di un regolamento Di conti Ma gli inquirenti Stanno valutando Tutte le piste Ancora cronaca Si raccusa Quattro persone Sono state arrestate Dai carabinieri Per una violenta rapina In villa Con sequestro Avvenuta nella zona Fanusa A Renella Nel gennaio scorso Si riferiscono Proprio a quella sera Le immagini Che vi stiamo mostrando I rapinatori armati Con il volto coperto Da passamontagna Dopo aver fatto irruzione Nell'abitazione Avevano aggredito Le persone presenti Uno dei figli Del proprietario La fidanzata Immobilizzandole Con fascette In plastica Imbavagliandole Con nastro adesivo I banditi Li hanno minacciati Con armi e coltelli Per farsi indicare Dove erano nascosti E custoditi Soldi e gioielli Poi l'intervento Dei carabinieri Ha consentito Di recuperare La rifurtiva Restituire L'autolettura Risultata rubata Al proprietario Adesso invece Ci occupiamo Di minori Non accompagnati I minori migranti Rientra L'emergenza Al centro Di accoglienza Di Siculiana Nell'Agrigentino A Villa Sicania Ci sono poco più Di un centinaio Di giovani Ma altri Sono pronti Ad arrivare Dopo lo sbarco Che è avvenuto Alla porto Di Porto Empedocle Nella struttura Vivono anche Interi nuclei familiari Davide Sarto Rientrata Almeno per il momento L'emergenza Sovraffollamento Di minori Non accompagnati A Villa Sicania Il centro Di accoglienza Straordinaria Di Siculiana Nell'Agrigentino Sono poco più Di un centinaio 130 per l'esattezza I giovani migranti Presenti Nella struttura Di permanenza Temporanea Che ne può Ospitare 120 Sono liberi Di poter Tranquillamente Uscire dal centro E integrarsi Con gli abitanti Di Siculiana Nei giorni scorsi Erano presenti Oltre 200 migranti Un numero troppo elevato Che ha costretto Il responsabile Della struttura A chiedere L'intervento Della prefettura Abbiamo chiesto Dei materassi Per la settimana Di ferragosto Perché era un periodo Critico Per l'acquisto In quanto Tutte le attività Commerciali Erano chiuse La prefettura Ci ha supportato Brillantemente In questa situazione E molti Dei minori Non accompagnati Saranno trasferiti In pullman E prossimamente In altre strutture Italiane Per far posto Ai nuovi arrivati Che sbarcheranno Al porto La situazione È abbastanza tranquilla Non siamo in uno Stato emergenziale Grave In quanto Se riusciamo A mantenere Con l'ausilio Della grandissima Collaborazione Della prefettura Di Agrigento E delle forze Dell'ordine Riusciamo a mantenere I numeri Abbastanza Tranquillamente Nella norma In quanto Abbiamo arrivi E partenze Quasi giornalmente E quindi Tutto è Abbastanza sotto controllo E questa mattina A Villa Sicani È intervenuto anche Il sindaco Giuseppe Zambini Per constatare Di presenza La situazione Del centro E per ribadire L'importanza Dell'accoglienza Dei cittadini Siculiana Alcuni nuclei familiari Sono ben inseriti Già Hanno preso casa Lavorano E questo è un fatto Molto positivo I ragazzi Che sono Qui stanziali Frequentano Il centro Per istruzione Per adulti Quindi diciamo Che anche La cittadinanza Accoglie Molto favorevolmente Nel momento in cui C'è davvero Un sistema Di inclusione Villa Sicania Dunque torna Ad essere un centro D'accoglienza sicuro E idoneo Le risse I disordini Le fughe volontarie E gli incidenti stradali Sono per fortuna Soltanto un triste ricordo Adesso ci fermiamo C'è una breve Sosta Ci ritroviamo Con le altre notizie Torniamo insieme A Sicilia 24 Siamo adesso Agli spettacoli Chiara Civello Grande protagonista Dal festival del jazz Di piazza Armerina Applaudito Il suo successo Dal titolo Sono come sono Tonino De Mana Io credo Che la musica Curi Sono la prima A curarsi Durante Quell'ora E 15 Quell'ora E 20 Di un concerto Quindi la musica Mi cura Seguendo il filo rosso Della cura Di Franco Battiato Il festival jazz Di piazza Armerina Accoglie le noti Di Chiara Civello Con il suo successo Dal titolo Sono come sono A fare da sfondo All'esibizione La cattedrale Di piazza Armerina Degna cornice Della seconda edizione Del Beethoven Jazz Festival Promosso dal comune di piazza Dalla regione siciliana In collaborazione Con il palio De Normanni La cantante Compositrice E polistrumentista Si è esibita Sul palco Con Dario Bassolino Tastiere Paolo Petrella Basso E Stefano Costanzo Batteria Il concerto È stato un concentrato Di canzoni chiave Del percorso Dell'artista Dagli esordi a New York Alle collaborazioni Brasiliane Con grandi artisti italiani Come Bianconi E Di Martino Fino alla canzone Omaggio al suo idolo Michelle Legrano Breve sosta ancora E poi La pagina sportiva Eccoci siamo adesso Alla pagina sportiva Cresce l'entusiasmo Attorno al Catania Boom di abbonamenti E corsa contro il tempo Per accaparrarsi La preziosa tessera annuale Le piattaforme online Sono state prese d'assalto Ci sono anche tante file I botteghini Di Piazza Spedini Sin dal mattino Per noi È andato a verificare Sul posto Tonino De Mare Eccoli I figli del vulcano In coda sotto il sole A picco Al botteghino Di Piazza Spedini O davanti ad un pc A prendere d'assalto La piattaforma Ticket One Tutti A caccia dell'abbonamento Del Catania Stagione calcistica 2023-2024 Quella che segna Il ritorno Tra i professionisti Dopo un solo anno Di purgatorio Il popolo rossazzurro Risponde presente Alla chiamata di Ross Pelligra Il condottiero Che in un sol colpo Ha riportato il Catania in C E l'entusiasmo Dei tempi migliori È corsa l'abbonamento Ieri sono state vendute 7.417 tessere Già di buon mattino I tifosi sono qui Si sente un fischio Non è l'arbitro Ma è la polizia municipale Che disciplina il traffico Invitando gli automobilisti A non sostare Di fronte ai botteghini È un entusiasmo contagioso Grandi e piccoli A sostegno di una fede L'anno scorso L'ho fatta per la prima volta L'abbonamento è per lei O per i nipotini? No, è per me C'è gente che è venuta Anche alle 6 Da quello che ho sentito Io un po' più tardi Però vale la pena Di fare la fila Anche perché bisogna Dare fiducia A questa società Che fino ad oggi Ha fatto benissimo Il selfie è fatto Con lo sfondo del botteghino Cosa avete fatto? Dobbiamo andare a fare Ancora l'abbonamento Mi dobbiamo andare a stampare La WeCard Per poter fare l'abbonamento Il sole Il caldo La fila Non vi ferma? No, non mi non 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 A sostegno di una fede Sempre Il Catania Ovviamente Dopo Sant'Agata Per i catanesi È sacro Quindi il fila Caldo Sfidiamola qualunque Addirittura ho lasciato La moglie Per non andare al mare Per venire al botteghino Non si è fatta attendere La risposta del patron Pelligra Si tratta dell'ennesima Dimostrazione di forza E sentimento Dei nostri sostenitori Ha detto il presidente Esprimo sincera Gratitudine Ed entusiasmo Il primo spettacolo Al massimino Sarà sugli spalti I nostri ragazzi Dovranno trarre forza Da questa bellezza E meritare In ogni secondo di gioco Il grande onore Di rappresentare Catania Arriverò in città Nei prossimi giorni Pronto a vivere Con tutti gli appassionati L'emozione Della prima giornata Di campionato E Catania Crotone Potrebbe essere già Il primo sold out Della stagione Ci fermiamo qui Per questa edizione Del nostro telegiornale Un telegiornale Segnato Dalla grave lutto Dalla scomparsa Del caro collega Natale Bruno Che sarebbe dovuto Essere oggi qui Con voi A condurre Questa edizione Del telegiornale Ci scusiamo Per qualche sbavatura Ma oggi è stato Davvero difficile E complicato Lavorare Grazie ancora Per l'attenzione Per l'affetto E auguro a tutti voi Ancora Il buon proseguimento Con i nostri programmi E auguro a tutti i nostri programmi Grazie a tutti i nostri programmi